era salita in camera di un nostro cliente prima di lei ci sono state tre vittime tutte prostitute che cosa si ricorda ha detto che è stata inseguita in macchina la riabilitazione ti renderà autonoma cosa vedi una ragazza che corre con le furgone bianco parcheggiato cosa un furgone bianco parcheggiato l'unico sopravvissuto è il bambino di dieci anni che si trova in un istituto d'accoglienza posso aiutarti è il furgone bianco hanno ammazzato due polizonti davanti a casa tua oh oh no 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 No!